in questa determinata scena non abbiamo bisogno di particolare illuminazione anzi l'unica accortezza che utilizzeremo per renderizzare questa scena sarà quella di renderizzare separatamente tutte le particles quindi selezioniamo il nostro terreno e il nostro terreno che al momento è un materiale totalmente grigio al quale poi applicheremo volendo anche un materiale sabbia ma per ora lasciamolo tranquillamente con un materiale neutro quindi quando lo renderizzeremo renderizzeremo il materiale neutro andiamo a applicargli invece un materiale matte shadow il materiale matte shadow è un materiale che permette di renderizzare di trasformare in alfa praticamente quello che stiamo renderizzando quindi lo assegniamo così di default senza preoccuparci di impostare niente poiché va benissimo così di default rendering environment andiamo a copiarci il colore del background all'interno di un qualsiasi slot dei materiali questo perché adesso io voglio cambiare il colore del mio sfondo in nero questo perché? perché in questo modo quando andrò a renderizzare comunque avrò un effetto più distaccato e posso vedere meglio comunque gestire meglio le particles in fase di renderizzazione se andiamo a renderizzare prima di renderizzare nascondiamo hide selected nascondiamo le prime particles quelle del pcloud renderizziamo e noi otterremo a questo punto andiamo a impostare notiamo che il canale alfa è perfetto abbiamo andiamo a impostarci il nostro percorso di uscita formato scegliamo tranquillamente un open xr io lavoro benissimo con gli open xr salviamo e in formato 16 bit va benissimo non ci sono assolutamente problemi impostiamo che era segmento quindi da 0 a 100 vi ricordo che stiamo lavorando con una scala pal quindi a 25 frame per seconds e impostiamo la dimensione corretta quindi 1280x720 e renderizziamo avremo una media in questo caso di 30 minuti per renderizzare l'intera scena capite bene che 30 minuti sono comunque un tempo accettabile sono un tempo che ci permette di poter lavorare e se qualcosa non va bene rirenderizzarlo successivamente renderizzare a canali per più fasi permette quindi di poter renderizzare le varie parti e poterle gestire separatamente per renderizzare le altre particles ci basterà selezionare sicuramente il nostro blizzard o anche tramite i layers una volta che abbiamo organizzato tutto per layers possiamo nascondere il nostro blizzard e attivare il nostro p cloud andiamo a renderizzare nuovamente per verificare velocemente il nostro p cloud vediamo infatti il nostro p cloud ok perfetto altro pass che sicuramente dobbiamo renderizzare ma che renderizzeremo insieme al controlliamo anche l'alpha ok che renderizzeremo insieme al canale del diffuse è praticamente lo zedep lo zedep si imposta dal render elements dobbiamo andare a inserire il nostro canale prima cosa da fare è renderizzare le particles separate andiamo per ordine iniziamo dal nostro blizzard rimpostiamo canale di uscita è il range di renderizzazione naturalmente sovrascriviamo in ex e xr e lo indirizziamo grazie a tutti